Da pochi giorni si è concluso il viaggio di Papa Francesco in Africa, dove ha visitato tre paesi, Mozambico, Madagascar e isole Mauritius. Questo è stato il quarto viaggio del suo pontificato in Africa, una terra che lotta contro la povertà, dilaniata da sanguinose guerre civili e da calamità naturali, ma anche una terra ricca di umanità, di fede e di valori. La pace, la cura del creato e la cultura dell'incontro sono stati i temi principali di questo viaggio. Ne parleremo insieme domenica prossima, sempre sulla via di Damasco, alle ore 9.15 su Rai2. Nessuna etnia e tantomeno un paese ha futuro. Se il motore che li unisce li raduna e copre le differenze, è la vendetta e l'odio. C'è un'altra strada possibile, perché è fondamentale non dimenticare che i nostri popoli hanno diritto alla pace. Voi avete diritto alla pace.